Infatti stanno uscendo un sacco di video che smentono le polemiche della micotransazione, ma finalmente Elda, ma io come ho detto anche proprio in un video che ho pubblicato oggi su TikTok, questo clima di merda delle micotransazioni, sto clima acido, è esattamente lo stesso clima che si creò con Baldur's Gate quando vinse il Goti, eh? Quando Baldur's Gate vinse il Goti, per settimane la gente rompeva i coglioni, è grafica da gioco per telefono, è gioco a turni, è che cos'è sta merda e chi lo conosce? Sono state due settimane adesso, sfrantumamento dei Wallera, perché purtroppo su internet l'acido, l'odio va virale, perché la gente gli piace vedere la gente che butta merda, che butta acido, no? Queste robe vanno virali, vanno di trend, però come ogni trend di merda su internet, muore. Quando è morto quel trend con Baldur's Gate 3, quelli che avevano detto, ah no, doveva vincere Spider-Man, 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 ma hanno cominciato a provare Baldur's Gate, quelle clip hanno fatto clamore, perché? Perché lo stronzo che prima aveva insultato Baldur's Gate adesso si sta a redime e quindi poi si è andata a sistemare la situazione. Succederà lo stesso per Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 adesso piano piano sta cosa delle microtransazioni, sempre sempre più persone, andranno a dire, raga, ma che cazzo sta da dire? Se calmeranno le acque, la gente che prima rompeva i coglioni spenderà questi 60€ che diventeranno 50-40 con lo sconto e compagnia, e se andrà piano piano a risistema tutto. A me mi dà fastidio appunto che Dragon's Dogma 2 sia stato bombardato di recensioni negative. Cioè, avere al day one un gioco come Dragon's Dogma 2, che porca puttana, ti sa offrire tanto, ma tanto, 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 e leggere in tutte le recensioni gente che aveva 0.1 ore di gioco, non lo compro merda, 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 perché c'ha le microtransazioni. Cioè, vuol dire che tu qua hai una nocciolina. Non mi ricordo adesso come si chiama, una ragazza che io seguo ha detto, raga, non è che se il vostro youtuber preferito dice una roba, voi dovete crederci ciecamente. Leggete un cazzo di articolo, leggetelo l'articolo, non leggete il titolo, vedete un video, fatevi un'idea, informatevi. Perché purtroppo le pecore seguono il pastore, e c'è sta poco da fare. A me mi dà fastidio appunto se siano dovuti essere bombardati da gente che voleva soltanto buttare acido, perché? Perché l'internet purtroppo è un lupo affamato. Ho visto video sulle microtransazioni, anche se c'erano tanti peccoloni a commentare, altri hanno spiegato cosa sono davvero e che non sono obbligatorie. Quindi lo scandale è solo per fare visualizzazione, l'abbiamo detto. Esattamente, ma cos'avete qual è il fatto? Infatti è che le persone che spiegavano perché quelle fossero puttanate invece non andavano virali. Perché alla gente gli piace vedere la gente che dice cazzate, gli piace vedere il flame, vedere la gente che sconda. Quindi quando trova invece quello che ti dice, raga, boni e microtransazioni in realtà non so così, 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 sono una cosa che ci sono sempre stata. Io ho parlato anche appunto di microtransazioni sane e microtransazioni insane, perché quelle di Dragon's Dogma, Monster Hunter e tutte cose, sono microtransazioni sane. Cioè, roba che tu puoi lasciarla anche morta ammazzata là. La microtransazione che veramente ormai ogni volta che le persone la sentono partono tipo gli americani coi pedofili. So quelle dove tu, per vedere il finale di un gioco, devi pagare il DLC. Dove il gioco è fatto volutamente da figli di puttana per farti shoppare, per farti comprare le armi OP. Cioè, purtroppo la gente sente, microtransazione. Che cazzo che ha detto? Cacciano fuori i fucili, Dio Cristo. Cioè, come al solito c'è stata l'esagerazione. La gente piace vedere la gente che si scanna e che fa casino, vuoi passere a uscire il prossimo scandalo? Sì, ma io, ripeto, mi sono fermato del stare a rispondere. Io ogni tanto faccio il mio video dove chiacchio e queste cose, perché magari sto, ho i miei dieci minuti liberi. Però è letteralmente stata lotta a quei bambini. Infatti una maria di gente che butta me sul Dragon's Dogma e le microtransazioni non sanno neanche che sono oggetti che puoi trovare in gioco. Ma io questa roba ci ho provato un'infinità di volte a spiegarla a Fendrix. E dall'altra parte, poi, parte la pippona delle... L'errore sta proprio alla base. Perché in un gioco single play ci dovrebbero essere le microtransazioni? Che, come ragionamento, posso pure capirlo, no? Però, alla base di tutto è, a te che cazzo te ne frega? Cioè, io questa rottura di coglioni, la accetterei se la Capcom ti arriva, ti punta il ferro in testa e ti dice se tu non ti compri i cristalli della faglia, non vai avanti nel gioco, figlio di puttana. Onestamente, queste cose le vedo come quelle robe per chi c'ha voglia di spendere i soldi, perché ce le ha. Ma immagino, magari, una persona adulta che lavora 12 ore al giorno, gioca al Dragon's Dogma, non ha la bravura nelle ditine. Dice, guarda, io mi sono shoppato 1500 cristalli della faglia, mi sono piato una pedina che sta a 20 livelli sopra, che me cardia bene o male per tutta la partita, per tutto sto pezzetto. Tocca sempre, purtroppo, vedere il marcio, quando, appunto, Capcom a me non lo fa in modo sano. Cioè, non ti costringe a prenderle quelle cose. Se le vuoi, te le prendi. Poi, appunto, c'è cose come Dead Space 3, che invece al finale ce le ha nel DLC, e là te devi incazzare. Che, secondo me, è il concentrarsi su un punto sbagliato, perché se la gente mi venisse a parlare, prendendo, per esempio, la live di stasera, dell'ottimizzazione, mo' lasciamo perdere che siamo in live. Però quello già posso prenderlo come punto di critica. Ma sentire le persone che bombardano un gioco, con recensioni negative, che fanno, eh? Cioè, le recensioni negative. Immagina una persona che non ha mai sentito un cazzo di Dragon's Dogma. Va sullo shop, vede sta cosa, diceva, Dragon's Dogma, recensioni per lo più negative. Con tutte le recensioni che ho scritto micotransazioni. Che cosa deve pensare una persona? Non lo nomino neanche più le micotransazioni. Perché è come sta critica Baldur's Gate 3, con uno che dice che c'ha la grafica da telefono. La devi fare spallucce, ma andare a cagare, andare avanti, ragazzi, eh? È brutale, è triste. La è, fai le spallucce, mandi a fanculo e vai avanti. Perché è la stessa cosa dei recensioni per quanto riguarda l'ottimizzazione, che c'ha i suoi problemi. Ma c'ha gente che urla, tipo, boh, il primitivo con la clave. Ma io c'ho la 4080. Ho comprato la 4080. Che... Che CPU hai? L'i5, perché? Qua, Dio Cristo. Qua, Dio Cristo. Spendete 4.000 euro dei computer e non sapete manco che cazzo c'avete sotto al PC, Dio Cristo. Cioè, invece di strellare come un gibbone, c'ho la 4090. Va a informare da chi fa al posto tuo sti test. Vai a vedere perché la tua 4080 non ce la fa fare una cosa. Perché tu basta che cerchi un video, ti dicono, guarda, la CPU va in overload, questo blocca la GPU e quindi non renderizza. Eh, anch'io, Lon, io mi... Guarda, mi sarei aspettato tutto Dragon's Dogma 2. La gente che diceva, ah, c'ha un concetto di esplorazione, di missione, dove è veramente molto prolisso e lento nel mangiarti piano piano il contenuto. Non mi sarei mai aspettato che la gente si inchiodasse i suoi microtransazioni. Internet riesce sempre a stupirmi. Perché Dragon's Dogma 2, i suoi problemi, eh. Io già in questi primi, io me lo sto godendo perché sono appassionato di tutto quanto. Ce l'ha i suoi problemi, perché ce li ha. Il fatto che mentre esplori, fai gna 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 gna, sai, se glicia tutto quanto, tipo Monster Hunter. Ce l'ha i suoi problemini, ma nulla, amico della stazione. Io ho bloccato ogni tag e feed di Dragon's Dogma. Io ho il mio TikTok, il mio... Non ha più cose, non dalla pagina ufficiale di Dragon's Dogma, che quindi non dice puttanate. Non ho più feed, perché tanto sbucano soltanto persone. Io ve lo giuro, copie incollati. Cioè io penso che queste persone che fanno i video, neanche li scrivono. Invece potrei giocare le palle. Tu vedi qualsiasi, qualsiasi video delle persone che dicono se rottore di coglioni sui microtransazioni. Sono tutti uguali. Tutti non cambiano una parola. Io oggi vidi, per esempio, un video che ve lo consiglio, lo vado a riprendere perché era una bella analisi da entrambi i punti di vista che ho apprezzato, di Shazam. Penso che la conoscete questa signora, l'avete vista sicuramente su TikTok, questo video qua. Questa roba imparazzante di Shazam. Questo video è bellissimo perché fa un'analisi veloce, pulita, coerente di questa questione ed è perfetto. Rendendo anche i punti brutti, eh. Cioè parlando anche poi della microtransazione effettiva come un problema. Perché ovvio, io quando dico queste cose sulle microtransazioni, non sto scusando le microtransazioni, eh. Personalmente, potermi comprare 5.000 cristalli della faia per prendermi una pedina al 100, io lo trovo una rottura del mood del gioco. Perché rompi tutto. Però appunto, quella è una cosa che tu, giocatore, scegli se farti. Non l'approvo, ma il fatto che io non approvi una roba del genere, non significa che l'altro non possono farla. Cioè a me me va a cagare. Ma se qualcuno, appunto, ha due ore al giorno per giocare, fa così. Ma infatti i cristalli della faia praticamente mai... Ma perché io onestamente, cioè se non di qualche livello superiore, io le pedine non le ho mai prese tipo dei 20 livelli superiori. Perché non c'ha senso. Perché ti sfranto... Cioè tu vai in giro con queste macchine da guerra, che fanno gnom gnom e seccano tutto. Al massimo che mi sono riprendi di 5-6, ma neanche 3-4 livelli. Perché? Perché così invece dovete restare sempre a cambiare, te le porti per un po' e stop. Però principalmente servono per comprarti la roba particolare, per quanto siano delle cazzate, no? Per cambiare la personalità e quelle robe lì.